Padre nostro ti vogliamo ringraziare perché tu ti prendi cura di noi e ci offri le informazioni di cui abbiamo bisogno per metterle in pratica. Ti preghiamo Padre Celeste benedicici, benedicici anche nei momenti che seguiranno. Signore abbiamo bisogno del pane della vita, abbiamo bisogno di cibo solido, abbiamo bisogno della sana dottrina e ti preghiamo Padre Celeste che quanto ascolteremo da questo momento in poi possa incoraggiarci ad essere veri e propri i tuoi figli. Ti ringraziamo, riversa il tuo Santo Spirito in questa occasione nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen. Fratelli e sorelle, come forse avrete visto da quello che è l'invito all'incontro di oggi, il titolo per il sermone che andremo ad affrontare assieme è un titolo particolare e non so per quanti l'hanno già visto, per quanti lo sentono adesso per la prima volta. Il titolo di oggi è omissione di soccorso. Omissione di soccorso. Forse per alcuni già dice qualcosa, forse per altri non capiscono ancora bene di che cosa si tratti quando si parla di omissione di soccorso, ma tutte le cose saranno chiare a suo tempo. Per iniziare vorrei leggervi un passaggio delle scritture che in realtà è anche una promessa da parte di Dio. Seconda Corinzi. Seconda Corinzi, questo è il primo versetto che leggeremo, una promessa con la quale vorrei iniziare. Seconda Corinzi, capitolo 2, leggeremo il versetto 14 in modo particolare, la prima parte del versetto 14. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 14 ci dice... Or sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Voglio fermarmi qui in questi momenti. Voglio partire con questa promessa, con questo incoraggiamento e con questa benedizione. Abbiamo visto questa mattina nella scuola del sabato questo importante tema dei patti di Dio e delle promesse di Dio che non sono sempre unilaterali, quindi che non vengono sempre ed esclusivamente in modo completo da parte di Dio, ma esistono anche dei patti delle promesse che sono bilaterali, secondo le quali noi, anche noi, abbiamo una piccola parte da addempiere. In questo caso la parola di Dio ci dice... Or sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Quando è che Dio ci fa trionfare, sempre trionfare in Cristo, soltanto quando accettiamo Cristo nella nostra vita, quando lo accettiamo nella nostra vita e accogliamo la potenza di Cristo che può manifestarsi nella nostra vita, allora io e te saremo sempre trionfanti in Cristo Gesù. Quando viene la tentazione, quando viene il momento della prova, quando sentiamo di essere dominati o sovrastati dai nostri appetiti, dalle nostre passioni, dai nostri pensieri carnali e mondani, quando sentiamo che stiamo iniziando a perdere la pazienza, oppure quando crediamo che l'opzione più semplice per risolvere un problema sia quella di dire una bugia o una mezza verità che in realtà è un'intera bugia, che cosa dobbiamo fare? dobbiamo reclamare le promesse di Dio, dobbiamo reclamare le belle, le buone e le preziosissime promesse di Dio come quella che abbiamo appena letto. Che cosa ci dice seconda Corinzi capitolo 2 versetto 14? Or sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Quante volte ci fa trionfare in Cristo Dio? Se accogliamo Cristo nella nostra vita quante volte? La parola di Dio ci dice sempre. Non ci dice di tanto in tanto, non ci dice ogni tanto, non ci dice che sia ringraziato il Dio il quale ci fa trionfare ogni tanto in Cristo Gesù, ma il versetto ci dice che ci fa trionfare sempre in Cristo Gesù. E questo è un pensiero che dovrebbe essere costante nelle nostre menti non soltanto per questa giornata di sabato, ma anche per tutta la settimana che avremo davanti. Dio vuole farci sempre trionfare in Cristo Gesù, portarci nel suo carro di vittoria ogni giorno della settimana per qualsiasi sia la prova e la tentazione, dandoci la vittoria sul peccato e sulla tentazione. Ora, se la promessa di Dio ci dice si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, la domanda è chi è che non permette a Dio di intervenire così come egli ci promette? Perché lui ci dice che potremmo avere sempre la vittoria, potremmo avere sempre il trionfo sulle tentazioni e sulle nostre inclinazioni carnali. La domanda è chi è che non permette a Dio di addempiere la sua promessa in noi? La risposta è che siamo sempre noi. Siamo sempre noi, possiamo essere noi ad impedire a Gesù di soccorrerci. Possiamo essere noi stessi che rifiutiamo le promesse di Dio, che non abbiamo fede in queste promesse di Dio, che vogliamo innalzare i nostri appetiti, i nostri piaceri al di sopra di Dio e soltanto in questo modo noi impediamo a Dio di soccorrerci, impediamo a Dio di farci trionfare sempre in Cristo Gesù. Ma se noi crediamo, abbiamo fede in queste promesse, le abbiamo presenti davanti a noi nella nostra mente, nei nostri pensieri, che cosa accadrà? Accadrà che otterremo un vero potere per la vittoria. Satana fuggirà da noi e il peccato non avrà più alcun potere su di noi. Or si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Andiamo avanti però. Andiamo avanti e vediamo come continua questo versetto. Davvero molto, molto incoraggiante. Or si è ringraziato il Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. E attraverso noi, attraverso di noi, manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Non so se siete attenti, non so se avete colto come va avanti questo versetto. Che cosa ci dice questo versetto, di fatto? Questo versetto, seconda, Corinzi, capitolo 2, versetto 14, di fatto ci dice che una volta che conosciamo e che sperimentiamo nella nostra vita Cristo, la sua giustizia e la sua vittoria nella nostra vita, questo versetto ci dice che non possiamo più tenere per noi questa conoscenza, non possiamo più tenere per noi questa esperienza, ma che dobbiamo condividerla anche con altri. Quando io e te sperimentiamo nella nostra vita l'essere trionfanti in Cristo Gesù, sulle nostre dipendenze, sulle nostre inclinazioni, sulle tentazioni che ci assalgono giorno dopo giorno, ma noi sperimentiamo il trionfo in Cristo Gesù. Noi sperimentiamo la vittoria in Cristo Gesù. Questa sensazione, questa liberazione, questo soccorso che Cristo ci offre, non possiamo tenerlo soltanto per noi stessi, ma dobbiamo condividerlo in tutti i luoghi, ci dice il versetto. Attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza e in ogni luogo ad ogni persona dovremmo diffondere questa essenza, dovremmo diffondere questo buon odore del trionfo e della giustizia e della grazia di Cristo Gesù. E perché dovremmo condividerlo anche con gli altri? Perché ce lo dice Marco? Perché ce lo può dire un pastore, un fratello, una sorella che dobbiamo fare questa cosa? Che dobbiamo parlare anche con altri di questa meravigliosa esperienza? Che siamo obbligati a farlo? Assolutamente no. Questo dovrebbe venire, dovrebbe essere per noi qualche cosa di spontaneo nel momento nel quale lo sperimentiamo nella nostra vita. Se ci ricordiamo e se avete la possibilità di andare brevemente a vedere in Apocalisse capitolo 22, al versetto 17, Apocalisse 22, 17, la parola di Dio ci dice che lo spirito e la sposa dicono vieni. E chi ode a sua volta che cosa fa? Dice vieni a qualcun altro. Il principio che noi estrapoliamo da questo versetto è davvero molto molto semplice, ovvero quando io e te sentiamo quello che è l'invito della buona novella e lo sperimentiamo nella nostra vita, non possiamo più tenerlo soltanto per noi stessi, ma siamo invitati a condividerlo in ogni luogo che frequentiamo. In famiglia, coi vicini, a scuola, a lavoro e in ogni altro ambito della nostra vita quotidiana, con amore e soprattutto con rispetto per la libertà anche degli altri. Quello che noi siamo chiamati a fare come messaggeri è quello di annunciare un messaggio, è quello di rivolgere un messaggio e così come abbiamo anche visto durante la scuola del sabato non dobbiamo essere oppressi dai pesi, non dobbiamo essere oppressi da quelli che sono i giochi umani, dalle aspettative umane, ma semplicemente che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere su di noi il gioco di Cristo e dobbiamo gettare su di Lui tutti i nostri pesi, adempiendo quella che è la nostra responsabilità di essere messaggeri, di essere ambasciatori e di portare la buona novella alle persone che sono intorno a noi. Ma come? Con amore e con rispetto. E se ci ricorderemo quello che è il metodo di Gesù, il metodo che Cristo ha utilizzato in modo particolare Gesù si interessava ai bisogni delle persone. Gesù andava ad incontrarsi con le persone, si interessava di quelle che erano le loro necessità, adempiva alle loro necessità e nel mentre adempiva le necessità delle persone gli annunciava il messaggio della buona novella, della salvezza, della liberazione, iniziando a parlare del Salvatore, iniziando a parlare di quello che Dio avrebbe potuto fare nella loro vita. E una volta gettato il seme della verità, che può essere gettato attraverso una parola di incoraggiamento, attraverso un libro regalato, attraverso una rivista regalata, attraverso un qualsiasi manifestazione dell'affetto divino nei confronti dell'uomo, allora anche quell'uomo alla fine deciderà di seguire Cristo. Per un semplice nostro comportamento, atteggiamento interpersonale con quella persona, un contatto personale. Se ci ricordiamo e vorrei comunque mostrarvi come citazione, tratto dal libro Il Gran Conflitto, pagina 62, paragrafo 2, o anche il libro La Grande Controversia nel capitolo dei Valdesi, ad un certo punto ci viene mostrata questa bellissima citazione che ci dice Lo spirito del Cristo è uno spirito missionario. Ora, ascoltate molto bene, bellissima questa espressione. Il primo impulso di un cuore rigenerato è quello di condurre altri al Salvatore. Il primo impulso di un cuore rigenerato è quello di condurre altri al Salvatore. E ancora una volta, non perché lo dice Marco, non perché lo dice il fratello o la sorella, non perché l'abbiamo letto in una citazione dello spirito di profezia, ma perché questa è la conseguenza naturale delle cose nel momento nel quale io e te conosciamo Cristo, conosciamo la sua bontà e conosciamo la sua grazia e le sue benedizioni nella nostra vita. Non le vogliamo più tenere soltanto per noi stessi ed essere egoisti e vedere gli altri soffrire, ma che altro? Ma vogliamo condividere questa buona novella. E niente potrà fermarci così come nulla affermato i discepoli e gli apostoli quando sono stati mandati per predicare il Vangelo. Loro avevano sperimentato Cristo personalmente e voglio che sappiate che anche noi oggi abbiamo la possibilità di sperimentare Cristo personalmente, attraverso una relazione personale di preghiere, di studio della parola con Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Il primo impulso di un cuore rigenerato è quello di portare anche altri al Salvatore. Se siamo ancora in Seconda Corinzi, Seconda Corinzi, vorrei leggere assieme il versetto 15. Seconda Corinzi, capitolo 2, dal versetto 14 passiamo al versetto 15. Ci dice, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Noi che cosa siamo? Noi siamo il buon odore di Cristo fra gli uomini intorno a noi. E qui la parola di Dio ci dice che alcuni, pochi, accettano questo buon odore di Cristo, questo buon odore della novella e dell'Evangelo di Cristo Gesù per la loro salvezza e per la loro vita eterna, ma dice anche, e lo vedremo adesso col versetto successivo, che molti altri lo respingono, respingono questo buon odore per la loro morte e perdizione eterna. Sapete, noi siamo attratti molto spesso proprio da un buon odore e quando sentiamo un odore sgradevole, spiacevole, che cosa succede? Che noi lo rifiutiamo. Questa è la degradazione alla quale siamo arrivati. Noi non vogliamo più sentire l'odore piacevole. Molti non vogliono sentire l'odore piacevole di Cristo Gesù e vogliono continuare a rimanere in questo odore degradante di fumo inquinato del peccato. Il versetto 16 continua dicendo. Per questi, o meglio per quelli che periscono, per quelli che rifiutano il messaggio, il buon odore di Cristo, per questi questo odore diventa un odore di morte a morte. Ma per quelli, per quelli che invece accettano il messaggio della salvezza, diventa un odore di vita a vita. per alcuni, la buona novella che trasmettiamo nel nostro piccolo, nella nostra vita quotidiana, per alcuni diventa un odore di morte a morte e per altri, ma per altri, un odore di vita a vita. E dovremmo forse scoraggiarci perché incontreremo forse più porte chiuse che porte aperte. Dovremmo forse scoraggiarci perché troveremo forse più persone che ci rifiuteranno e che rifiuteranno l'Evangelo di Cristo invece che persone che lo accetteranno. Dovremmo forse scoraggiarci perché incontreremo più opposizione e prese in giro. Che belle accoglienze! Assolutamente no! Assolutamente non dovremmo mai vergognarci. Non dovremmo mai avere vergogna, come ci dice Paolo in Romani capitolo 1 al versetto 16. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché? Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza. Non dovremmo mai vergognarci, nonostante l'opposizione degli uomini. Voglio che sappiate una cosa, anche se l'intera umanità, se tutta l'umanità intera, tutti gli uomini sulla faccia di questa terra respingessero quella che è la buona notizia, il buon odore soave di Cristo Gesù, ma uno solo, anche se fosse uno solo, che può essere magari il nostro vicino, che può essere magari il nostro collega di lavoro, che può essere forse il nostro compagno di scuola, che può essere forse un parente. Se fosse anche per quel uno solo, Cristo sarebbe morto per quella persona. col rischio di perdere tutta l'umanità, se fosse stato anche per salvare una sola persona, Cristo avrebbe rifatto tutto quello che è il tragitto per arrivare al Golgotha e morire per ognuno di noi. anche per uno solo, per me o per te. Lui l'avrebbe fatto. E sapete quale sarà la nostra grande, grandissima gioia? La nostra più grande gioia è proprio quella di sapere che, tuttavia, Cristo non è morto per una sola persona. Ma quando avremo la possibilità di essere uniti tutti insieme, con tutti i salvati di ogni generazione, partendo da Adamo e Deva fino al ritorno di Cristo Gesù, quando noi saremo riuniti prima in cielo e poi su questa nuova terra con i salvati di ogni generazione, la nostra sorpresa sarà grande nello scoprire che questi salvati non possono essere contati da quanti essi saranno. Gesù Cristo sarà soddisfatto delle sue opere, delle opere delle sue mani e voglio che sappiate che anche ognuno di noi saremo grandemente soddisfatti quando vedremo che è un nostro intervento, che perché ci siamo lasciati usare come strumenti nelle mani di Dio, Dio si è servito di noi per raggiungere fratelli e sorelle, per raggiungere quelli che prima si trovavano nel mondo ma che adesso sono diventati figli di Dio per la salvezza eterna. E saremo felici quando, riuniti tutti quanti insieme i salvati di ogni generazione, potremo andare dall'uno e dall'altro e dire se non fosse stato per te, probabilmente non sarei mai potuto essere salvato. Se non fosse stato per te, se non fosse stata per quella parola che tu hai usato per confortarmi un giorno quando ero triste, quando ero depresso, se non fosse stata per quella brochure che tu mi hai lasciato, se non fosse stato per quello che hai fatto, e ovviamente tutta la lode andrà a Dio e non all'uomo. Ma è bene capire che Dio desidera cooperare con l'uomo. Il divino desidera cooperare con l'umano. Ci ricordiamo del messaggio dei tre angeli? Di questi tre angeli che volano in mezzo al cielo? Apocalisse capitolo 14, ce lo ricordiamo? Penso di sì. Questo è l'ultimo messaggio di grazia, l'ultimo messaggio di avvertimento per l'umanità. Dio avrebbe potuto servirsi di angeli, di potenti angeli, avrebbe potuto farlo. E in un batter d'occhio, in uno scocchio di dita, i potenti angeli di Dio avrebbero potuto annunciare il messaggio dell'Evangelo a tutta l'umanità. Ma questi angeli non rappresentano angeli letterali, rappresentano dei messaggeri, dei messaggeri umani, rappresentano me e te, di cui Dio si vuole servire, divino e umano combinato, per poter annunciare il messaggio dell'Evangelo, per poter dimostrare con la propria vita ciò che Cristo può fare, la grazia trasformatrice di Cristo può fare nella nostra vita ciò che Dio ha fatto per noi, può fare anche per gli altri che si trovano nel mondo, che si stanno preparando per la perdizione. Noi possiamo essere come questi angeli che volano in mezzo al cielo recando l'Evangelo eterno. Possiamo esserlo, possiamo farlo. Abbiamo questa grande opportunità di farlo specialmente in quest'ora profetica, quando ci avviciniamo così tanto alla conclusione del gran conflitto. Quando ci avviciniamo così tanto al ritorno di Cristo Gesù, Dio ci chiama, Dio ci chiama. Ma voglio chiedervi che cosa succede se io e te, per un motivo o per l'altro, non desideriamo manifestare questo spirito missionario. Stiamo bene seduti sabato dopo sabato, che possa essere in una chiesa o in una casa. Stiamo ben seduti sulla nostra panca da chiesa, nel nostro posto che ormai ci siamo... che abbiamo prenotato sabato dopo sabato nelle chiese, nelle comunità, oppure sulla nostra sedia in camera o in cucina o dove siamo per seguire, per riunirci tra fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Stiamo così bene seduti sabato dopo sabato. finisce il sabato, inizia la settimana lavorativa. E che cosa dobbiamo fare questa settimana lavorativa? Lavorare, lavorare, lavorare. Bene, l'uomo è stato creato per lavorare, ma noi siamo così tranquilli, stiamo così bene, stiamo così comodi che ci dimentichiamo del fatto che lo spirito di Cristo è uno spirito missionario. Ci dimentichiamo del fatto che il primo impulso di un'anima, di un cuore rigenerato è quella di portare anche altri a Cristo. Ci dimentichiamo e diciamo tanto arriva il prossimo sabato. Sarò di nuovo insieme ai fratelli e sorelle in Cristo Gesù? Ma mi dimentico di annunciare ciò che imparo il sabato anche con gli altri, di condividerlo anche con gli altri, forse anche con quelle persone che non la vedono come noi, forse anche con quelle persone che sono a te, forse con quelle persone che sono anche di altre denominazioni, ma tengo tutto quanto per me. Sapete che cosa succede quando noi abbiamo un tubo di scarico? E ad un certo punto in questo tubo c'è un'ostruzione. Arriva del materiale, qualunque esso sia, arriva il materiale, arriva il materiale, arriva il materiale, questo succede anche nelle nostre vene, non è così? E quando quell'ostruzione non permette più nient'altro di passare, di andare oltre, di andare da un'altra parte, di passarlo più in là, che cosa succede a quel tubo? O che scoppia quel tubo, o che abbiamo dei gravi, gravi problemi? Noi siamo stati chiamati, come uomini e donne in Cristo Gesù, ad essere dei tubi senza alcun tipo di ostruzione. Quello che riceviamo, quello che prendiamo da Dio, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasmetterlo più in là alle persone che sono intorno a noi. E vorrei tanto andare a vedere che cosa accadrà, se da questo punto di vista noi terremo tutto quanto per noi e non lo condivideremo con gli altri. Vorrei invitarvi ad aprire la parola di Dio in Esther, nel libro di Esther, capitolo 4. Esther, capitolo 4. Poco prima dei salmi, mi rendo conto che il libro di Esther è un libro un po' più piccolino, forse non sempre così semplice da trovare, ma poco prima dei salmi abbiamo il libro di Giobbe. Poco prima del libro di Giobbe abbiamo il libro di Esther. Spero che siate insieme a me in questo passaggio. Esther, capitolo 4. Esther, capitolo 4. E vorrei che leggessimo assieme il versetto 14. Ascoltate che cosa succede se noi tacciamo. Se noi non sentiamo questo bisogno di testimoniare, se non sentiamo questo bisogno di essere veri e propri missionari di Cristo anche con le persone intorno a noi. Esther, capitolo 4, versetto 14. Poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Mi voglio fermare qui, mi voglio fermare qui, andremo a vedere dopo la continuazione di questo versetto, ma voglio che capiamo quello che leggiamo. non voglio che prendiamo le cose superficialmente tanto per averle lette. Questo passaggio è davvero molto molto importante perché se noi tacciamo e non condividiamo una buona novella, che è la novella di Cristo Gesù, che è l'Evangelo Eterno, che deve arrivare ad ogni abitante della terra, persino a quelle persone che sono vicine a noi, se noi non condividiamo questo messaggio dell'Evangelo che abbiamo sperimentato nella nostra vita, per il soccorso e la liberazione delle persone accanto a noi, questa sarà per noi una grave condanna. E questa condanna verrà registrata nei nostri confronti contro di noi, contro di noi. perché, sapete, possiamo dire di aver conosciuto Cristo da tempo, possiamo dire di essere figli, figli di generazioni di cristiane, figli, figli di avventisti, possiamo dire di aver conosciuto Cristo, possiamo dire di frequentare la chiesa ogni sabato, ma se non abbiamo il desiderio che sorga nel nostro cuore, ripeto ancora una volta, non perché lo dice il fratello X o la sorella Y, non perché lo dice il pastore o l'evangelista, non perché lo dice questo o quella persona, non perché deve essere un obbligo, non perché debba essere un qualche cosa che dobbiamo fare in modo forzato, assolutamente no, ma semplicemente, semplicemente, un vero cuore rigenerato. sentirai il bisogno, non di tenere per se stesse tutte queste cose, ma di condividerle anche con altri, anche con altri. Perché può succedere che non soltanto siamo al versetto 14, Esther capitolo 4, versetto 14, perché qui ci viene detto nei confronti di Esther che se tu taci, soccorso e liberazione sorgerà da qualche altra parte, ma tu perirai. E sapete, potrebbe esserci anche la possibilità, il grande pericolo che non soltanto noi periremo perché, perché siamo stati zitti, perché ci siamo vergognati, perché chissà cosa pensa il vicino, perché chissà cosa pensa la persona in banca, chissà che cosa pensa il famigliare, chissà che cosa pensa il mio datore di lavoro, il mio capo, il mio collega. Mi guarderanno con degli occhi strani perché scopriranno che sono cristiano. Oh no, carissimi! La cosa triste che potrebbe succedere è che proprio per questa nostra vergogna, proprio per questa nostra paura, non soltanto potremmo perire noi, ma potrebbero perire anche le persone che ci sono accanto. Vi è mai capitato, io non so se vi è mai capitato di parlare con una persona che voi sapete apertamente di non essere, magari di non essere cristiana o magari di non essere avventista, magari una persona atea, magari una persona di qualche denominazione che compone Babilonia? E dopo qualche giorno vi arriva la notizia che quella persona sia morta. Per quella persona il tempo di grazia si è concluso. E sapete qual è il problema? Voi, noi, io e te abbiamo avuto forse la possibilità di parlare con quella persona qualche giorno prima, ma non lo abbiamo fatto. Ma non lo abbiamo fatto. E non soltanto rischiamo di perire noi per aver taciuto, ma rischiamo che anche quella persona che Dio ci ha affidato, perché ha messo sulla nostra strada, ha fatto tutto il possibile affinché io e te potessimo parlare con quella persona, possa perire anche lei. Perché? Perché noi abbiamo taciuto. Perché noi abbiamo taciuto. E voglio chiedervi, sapete come si chiamerà questo tipo di colpa che sarà scritta accanto al nostro caso nel registro celeste dove sono scritti i nostri nomi e dove c'è la lista di tutti i nostri peccati? Sapete che tipo di peccato sarà scritto lì vicino al nostro nome? Quanti si ricordano qual è il titolo di oggi, di questo sermone? Omissione di soccorso. Omissione di soccorso. Perché noi avremmo potuto parlare, annunciare il Vangelo a quelle persone, ma non l'abbiamo fatte. Il loro tempo è terminato e non hanno più altra speranza. Omissione di soccorso. Sapevate che anche per quanto riguarda la nostra società esiste una pena che è proprio collegata all'omissione di soccorso. Vorrei tanto mostrarvi questa citazione. Cioè non è una citazione, scusatemi, è proprio tratto dal codice penale, l'articolo 593 del codice penale, che è chiamata omissione di soccorso. Omissione di soccorso. E vorrei che andassimo a vedere brevemente in che cosa consiste questo termine omissione di soccorso, perché magari non tutti quanti forse lo riescono a capire molto bene. Qui ci viene detto che chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso alle autorità. Ed è punito quella reclusione fino a un anno o con una multa fino a 2500 euro. Perché? Perché noi abbiamo trovato questa persona in difficoltà minore o incapace di provvedere a se stessa e siamo andati oltre. Siamo andati oltre. Non abbiamo chiamato nessuno che si prendesse cura di queste persone. Non ci siamo noi presi cura di quelle persone. Il codice penale va avanti e dice, alla stessa pena, so già c'è chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, come quello che vediamo in foto, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, che cosa succede? Omette di prestare l'assistenza occorrente o di dare immediato avviso alle autorità. Con altre parole, se noi vediamo una persona che è in fin di vita, una persona che è in grave pericolo di vita, che sta per morire e la vediamo proprio davanti a noi, la vediamo proprio davanti a noi e non facciamo nulla e passiamo oltre... che cosa succede? Omissione di soccorso. Lo Stato può punirci, può ammendarci e possiamo persino finire in prigione. Perché? Perché avremmo potuto aiutare quella persona in fin di vita, ma non lo abbiamo fatto. Il codice penale va avanti dicendo che se da si fatta condotta, cioè se io non mi prendo cura di questa persona che è in fin di vita e vado avanti, non me ne interesse. Se da questa condotta deriva una lesione personale e quindi se da questa condotta succede che io in un qualche modo contribuisco e aggravo la situazione, la pena viene aumentata e se ne deriva la morte, perciò se quella persona muore anche a causa mia che non sono intervenuto e non l'ho aiutata, la pena viene raddoppiata. La pena viene raddoppiata. E sapete, oggi esistono un gran numero di casi di questo tipo, dove ci viene detto ad esempio da Sciacca, che ruba un'auto e investe una ragazza, viene denunciato un uomo perché? Per omissione di soccorso. Perché? Perché non ha prestato l'assistenza a questa ragazza che era stata investita. Non ha prestato assistenza a questa persona. Da Roma. Bimbi investiti sulla strada. Torna libero il 61enne accusato di omissione di soccorso. Omissione di soccorso. Carissimi fratelli, carissime sorelle, noi vediamo e capiamo la gravità di queste cose da un punto di vista fisico. E penso che se qualcuno di voi dovesse incontrare sulla strada come buoni cristiani e non come farisei, che devono andare in chiesa e quindi lasciano morire quella persona che si trova in difficoltà, che anche noi se avessimo davanti a noi una persona è che in fin di vita faremo tutto il possibile per aiutare questa persona a sopravvivere, a vivere e che non la lasceremmo così com'è. Non è così? Ancor di più se si tratta magari di un nostro caro familiare. Ancor di più se si dovresse trattare, ad esempio, di un figlio, di un giovane al quale siamo così affezionati. Vorrei leggervi una citazione e poi andare a vedere il senso spirituale di tutto ciò. Dal libro Tesori delle testimonianze, volume 2, pagina 90, paragrafo 1, ci viene detto. La negligenza della religione nel focolare domestico, nell'educazione dei vostri figli, dispiace molto a Dio. Ora vedremo un esempio per quanto riguarda i figli, ma voglio che lo applicate a qualsiasi altra persona, sia familiari, che colleghi di lavoro, che vicini, che conoscenti, che persone che magari abbiamo incontrato per la prima volta in strada. Ascoltate che cosa ci dice. Se uno dei vostri figli cadesse nel fiume e rischiasse di annegare, quale agitazione ci sarebbe? Quali sforzi sarebbero fatti? Quante preghiere sarebbero offerte? Quanto entusiasmo verrebbe manifestato per salvare una vita umana? Mi fermo qui. Mi fermo qui perché voglio che assimiliamo quello che leggiamo. Abbiamo capito quello che abbiamo letto? Se vedessimo una persona a noi cara, a negare, o una persona qualsiasi, a negare proprio davanti ai nostri occhi, non ci preoccuperemo forse per quella persona? Non faremo tutto il possibile che possiamo fare per tirare fuori quella persona da morte certa? Non pregheremo in modo insistente? Con tutte le nostre forze non troveremo ogni mezzo per tirarla fuori? Parole in rosso. Ma qui ci sono i vostri figli lontani da Cristo. Si tratta delle loro anime che rischiano di perdersi. E parole in rosso alla fine del testo? E voi rimanete indifferenti, non ve ne preoccupate. Rimanete indifferenti, non ve ne preoccupate. Carissimi fratelli e sorelle, intorno a noi ci sono persone che si stanno preparando per la distruzione, per la morte eterna. Persone che intorno a noi, io a volte ci penso, e dico Signore, ma queste persone che sono accanto a me, che forse ancora non hanno mai sentito parlare di Cristo Gesù, queste persone, arriverà un tempo che forse proprio a causa mia, periranno eternamente. Verranno distrutte eternamente. Perché? Perché io, Marco, ho evitato di soccorrerle, ho commesso questo peccato dell'ommissione di soccorso, ho taciuto e non ho detto niente a queste persone che sono accanto a me. E voglio che sappiate che ci sono così tante persone intorno a noi. Ci sono così tante persone intorno a noi che forse non lo realizzano, forse non se ne rendono ancora conto. Loro sanno che hanno bisogno di qualcuno, sanno che hanno bisogno di essere raggiunte, sanno che hanno bisogno di qualcosa e molti non sanno di che cosa hanno bisogno finché non incontrano i figli di Dio, finché non incontrano la verità della parola di Dio. Allora realizzano ciò di cui avevano avuto bisogno fino a quel momento. Ma sapete, molte di queste persone sentono il bisogno di qualcosa, lo sentono e aspettano qualcuno che vada incontro. Vorrei che andassimo velocemente in Lamentazioni. Dopo i salmi, dopo Isaia, dopo Geremia, tra Geremia ed Ezechiele abbiamo davvero un piccolo, piccolissimo libricino chiamato Lamentazioni. Tra Geremia ed Ezechiele abbiamo il libro delle Lamentazioni e vorrei che leggessimo assieme Lamentazioni, capitolo 4, versetto 17. Lamentazioni 4, versetto 17. Ascoltate bene, ascoltate molto bene. Che cosa dice? Lamentazioni 4, versetto 17. Inoltre, i nostri occhi si consumavano nell'attesa di un vano soccorso. Che cosa facevano gli occhi del popolo di Dio deportato? Che cosa facevano? Loro, i loro occhi si consumavano dal pianto, dalla disperazione, aspettando che cosa? Aspettando un vano soccorso. Aspettando qualcuno che gli soccorresse, qualcuno che li liberasse. Apocalisse 18, al versetto 4, ci dice che Dio ha un popolo in Babilonia. Che Dio ha un popolo nel mondo, che Dio ha un popolo anche nelle diverse denominazioni che ora compongono Babilonia. ha un popolo anche tra coloro che oggi si dicono essere atei. Queste persone, giorno dopo giorno, cercano Dio. Consumano i loro occhi in pianti, in preghiere, in aspettative, in speranze, che si possono concretizzare soltanto se noi, come figli di Dio, facciamo la nostra parte. Se noi, come popolo di Dio, non aspettiamo che le persone vengano da noi, ma noi, come Cristo, andiamo ad esse incontro. queste persone, i loro occhi si consumavano nell'attesa di un vano soccorso. Dio ha un popolo in Babilonia. E quello che vi voglio chiedere, carissimi, è che cosa faremo noi con le persone che sono tutte quante intorno a noi? Che cosa faremo? Rimarremo indifferenti? Rimarremo insensibili? Ci maccheremo di questa terribile colpa dell'omissione di soccorso che sarà scritta accanto al nostro nome? Se tu taci, oggi soccorso e liberazione sorgeranno da qualche altra parte, ma tu perirai. E probabilmente molte delle persone con le quali Dio ti ha messo in contatto periranno anch'esse. Omissione di soccorso. Oppure, faremo tutto ciò che possiamo. Perché? Perché il primo impulso di un cuore rigenerato è quello di portare anche altre persone al Salvatore, di fargli conoscere la sua grazia salvifica, la liberazione dalle dipendenze, dai peccati della loro vita. Ho un'altra citazione, tratto dal libro Tesori delle testimonianze, volume 3, pagina 40, paragrafo 1. Ci viene detto «Le anime periscono lontano da Cristo, e quelli che si dicono discepoli di Cristo le lasciano morire». Mi fermo qui. Mi fermo qui. Le anime periscono lontano da Cristo e quelli che si dicono discepoli di Cristo. Ci chiamiamo noi discepoli di Cristo? Sì. Ci chiamiamo noi figli di Dio? Sì. Ci chiamiamo noi popolo scelto di Dio in questi ultimi giorni? Sì. Che cosa facciamo? Noi lasciamo morire. Queste anime che periscono lontano da Cristo le lasciamo morire. Omissione di soccorso. Vediamo che queste persone hanno bisogno di Cristo. Lo vediamo. Sappiamo che i nostri vicini, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri compagni hanno bisogno di Cristo. Li vediamo così come sono disperati, li vediamo così come sono senza speranza, ma noi che cosa facciamo? Gli lasciamo morire. E tacciamo. I nostri fratelli hanno ricevuto dei talenti per la salvezza delle anime. Ognuno di noi ha ricevuto almeno un talento. E questi talenti ci sono stati dati perché cosa? Per la salvezza delle anime. Ma alcuni di essi, ascoltate, li hanno avvolti in un tovagliolo e li hanno seppelliti nel terreno. Come possono somigliare all'angelo che vola in mezzo al cielo per proclamare i comandamenti di Dio e la fede di Gesù? Che cosa possiamo ancora dire a chi è indolente per scuoterlo dal suo torpore e spingerlo a lavorare per il maestro? Che cosa si può dire al membro pigro per fargli capire la necessità di disseppellire il suo talento e di metterlo a profitto? Che cosa si potrebbe ancora dire per ognuno di noi, carissimi? Che cosa? Nel regno di Dio non ci sono oziosi e non ci sono indolenti. Voglia Dio far comprendere tutta l'importanza di questo argomento alla chiesa addormentata. Che Sion si levi. Che cosa deve fare Sion? Sion si deve levare. Sion deve indossare la sua veste sontuosa e iniziare a risplendere. Perché? Perché noi siamo la luce del mondo. Come discepoli di Cristo, come figli di Dio, siamo la luce del mondo. E questo per noi è il momento di risplendere. Questo per noi è il momento di annunciare l'ultimo messaggio di avvertimento e di grazia. Il Vangelo eterno di Cristo Gesù per la salvezza delle persone, tutto intorno a noi. Questo è il centro del gran conflitto. Questo è il centro del gran conflitto, la salvezza degli uomini. Anche se si trattasse di un solo uomo, o donna, o giovane, o anziano. Questo è il tutto per Dio. Questo è il centro del gran conflitto, la salvezza delle persone che sono intorno a noi, la salvezza della nostra, stessa salvezza. Torniamo in Esther. Esther capitolo 4. Esther capitolo 4. E adesso vogliamo leggere tutto il versetto 4, perché ci sarà non soltanto di avvertimento, come abbiamo visto adesso, ma ci sarà anche di grande incoraggiamento, di grande speranza. Dio è un Dio buono e misericordioso. Esther, poco prima del Libro dei Salmi. Esther. Esther capitolo 4. E leggeremo adesso tutto il versetto 14. Qui la parola di Dio ci dice. Poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Ma ora ascoltate, qual è il grande incoraggiamento che Dio dà dopo l'avvertimento? Dio dice, inoltre, parlando ad ognuno di noi, attualizziamo quello che leggiamo ad ognuno di noi, che cosa ci vuole dire Dio. Ascoltate, inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Chissà se è per un tempo come questo che tu sei divenuta regina. Ci si stava riferendo ad Esther che sarebbe divenuta regina. Carissimi, ognuno di noi, me e te, abbiamo una missione speciale. Annunciare il Cristo per la salvezza delle persone. E voglio che sappiate che io e te, come cristiani, come figli di Dio, come discepoli di Cristo, siamo divenuti re e regine. Che io e te facciamo parte di un sacerdozio regale. E la nostra domanda adesso è, chissà se è per un tempo come questo che Dio ci ha fatti essere ciò che siamo. Ci ha fatti arrivare qui dove siamo. E ci ha resi partecipi del sacerdozio regale in Cristo Gesù per la nostra salvezza. Non per tenerla soltanto per noi stessi, ma per estendere questo privilegio anche ad altri. Noi siamo arrivati alla conclusione delle epoche. Cristo è pronto per tornare. E voglio chiedervi qual è l'unica cosa che ritarda il ritorno di Cristo Gesù? Qual è l'unica cosa che ritarda il ritorno di Cristo Gesù? Sapete qual è? È la stessa cosa che impedisce alle promesse di Dio di addempersi nella nostra vita. Il ritorno di Cristo Gesù è causato da noi. La causa del ritardo di Gesù e del suo ritorno siamo proprio noi. Perché noi stiamo ritardando ciò che Dio ci ha detto di fare, l'adempimento di ciò che ci è stato incaricato, ovvero di estendere, di proclamare il Vangelo Eterno ad ogni abitante della terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Questo è il messaggio del primo angelo. L'Evangelo Eterno deve arrivare ad ogni abitante della terra. Matteo capitolo 24 al versetto 14 ci dice che quando questo Evangelo del Regno sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, allora che cosa verrà? Verrà la fine e Cristo ritornerà. Ma a chi è dato il compito di proclamare questo Vangelo Eterno? A chi è dato il compito di far venire la fine proclamando l'Evangelo ad ogni abitante della terra? Questo compito ci è stato affidato. E se noi ritardiamo nella proclamazione del messaggio, se noi ritardiamo di far conoscere Cristo alle persone accanto a noi, alle persone che Dio ci mette sulla strada, noi non facciamo altro che ritardare il ritorno di Cristo Gesù. Seconda Pietro. Seconda Pietro. Seconda Pietro capitolo 2 e leggeremo assieme. Seconda Pietro capitolo 3, scusatemi, il versetto, il versetto 12. Seconda Pietro capitolo 3, versetto 12, siamo verso la fine del Nuovo Testamento. Seconda Pietro 3, versetto 12 ci dice, mentre aspettate, ma non soltanto aspettate, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno, non soltanto mentre aspettiamo, ma mentre anche affrettiamo il ritorno di Cristo Gesù. Noi siamo chiamati ad annunciare questo Vangelo, a presentare Cristo alle persone accanto a noi, affrettando il ritorno di Cristo Gesù. Perché Gesù non torna? Perché Gesù non torna? Perché Gesù non è venuto? Perché Gesù aspetta di venire? Perché noi non addempiamo il compito che ci è stato dato. Omissione di soccorso. Omissione di soccorso. Se voglio che sappiate una cosa, noi in modo particolare come avventisti del settimo giorno, c'è stata data una responsabilità ancora maggiore rispetto a tutte le altre denominazioni, rispetto a tutti quegli altri che si definiscono essere cristiani. Dio ci ha dato un messaggio speciale per il tempo che stiamo vivendo. Dal libro Chiesa del Rimanente, pagina 58, paragrafo 5, ci viene detto, gli avventisti del settimo giorno sono stati posti in un mondo, in un modo speciale nel mondo, come sentinelle e come portatori di luce. È stato loro affidato l'ultimo avvertimento per un mondo che perisce. Su di essi risplende la meravigliosa luce della parola di Dio. È stata loro affidata un'opera di solenne importanza. Qual è questa opera di solenne importanza? La proclamazione dei messaggi del primo, del secondo e del terzo angelo. Apocalisse, capitolo 14. Nessun'altra opera ha tanta importanza, perciò non debbono permettere che altre cose vengano ad assorbire la loro attenzione. E proprio per il semplice fatto che noi come popolo non abbiamo adempiuta la missione che Dio ci ha dato, Cristo ritarda. E questo non lo dico io. Tesori delle testimonianze, volume 3. Prima parte ci dice se il suo popolo avesse seguito il piano di Dio di dare al mondo il messaggio di avvertimento, quale messaggio? Il messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo che ci mostra l'Evangelo eterno di Cristo Gesù che ci mostra gli inganni di questi ultimi tempi? Se noi avessimo seguito il piano di Dio di dare al mondo il messaggio di avvertimento, che cosa ci dice? Cristo sarebbe già venuto sulla terra. E i santi avrebbero già ricevuto il benvenuto nella città di Dio. Carissimi, io credo fermamente a quanto abbiamo appena letto. In primo luogo perché? Perché la Bibbia lo conferma e lo abbiamo visto prima. Cristo sarebbe già venuto e noi avremmo già ricevuto il benvenuto nella santa città. Qual è stato il problema? Che ci siamo vergognati? Che abbiamo taciuto? Che abbiamo avuto paura? Che altro possiamo dire per convincere i discepoli di Cristo della grande importanza che c'è nell'opera della salvezza delle anni, nella testimonianza e nell'evangelizzazione. La seconda parte di questa citazione, continuo dicendo. In molte delle nostre chiese cittadine, il ministro predica sabato dopo sabato. E sabato dopo sabato i membri si recano nella casa di Dio. Voglio chiedervi, voglio chiedergli, prima di continuare, voglio chiedergli. Non è forse quella che anche noi a volte facciamo? O forse facciamo? Ci abituiamo? Sabato dopo sabato. Oh che bello, abbiamo il programma di mattino. Oh che bello, abbiamo il programma di pomeriggio. Passa tutta una settimana? Oh sì, che bello, c'è il sabato. Ed è bene, ed è bene. Non fraintendete quello che voglio dire. È una gioia anche per noi essere in comunione tra fratelli e sorelle in Cristo Gesù, avere una famiglia tutti quanti uniti, avere uno stesso pensiero, una stessa mentalità. Ma noi a volte, e può succedere per alcuni di noi, ci adagiamo su queste belle cose. E ci ricordiamo? Quando non ci incontriamo una volta, o un pomeriggio, o una mattina. E adesso? Che cosa si fa? Sabato dopo sabato ci incontriamo. Sabato dopo sabato ascoltiamo il messaggio. La domanda è che cosa facciamo durante la settimana? Che cosa facciamo durante la settimana? Oltre diciamo alla citazione. In molte delle nostre chiese, cittadine, il ministro predica sabato dopo sabato. E sabato dopo sabato i membri si recano nella casa di Dio senza dire una parola delle benedizioni ricevute a motivo di quelle date. Essi non hanno fatto nulla durante la settimana per mettere in pratica le istruzioni ricevute. Finché i membri di chiesa non si sforzeranno di dare ad altri l'aiuto ricevuto, ci sarà una grande fiacchezza spirituale. Ci sarà che cosa? una grande fiacchezza spirituale. E Cristo continuerà a ritardare anche a causa nostra. E probabilmente molte delle persone con le quali Dio ci ha messo in collegamento ce le ha messe davanti. Se non approfittiamo di questi momenti presto sarà troppo tardi. Dio ha scelto te e me, ognuno di noi, proprio per un tempo come questo. Proprio per un tempo come questo. Per trasmettere in ogni luogo e per trasmettere ad ogni persona che incontriamo, con amore e con rispetto, quello che è il profumo della conoscenza di Cristo Gesù. Affinché tutti quanti, tutti quanti alla fine di questo gran conflitto affinché nessuno possa dire io non l'ho saputo. E affinché le persone che sono accante a noi non dicano alla fine di tutto perché non me l'hai detto. Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti per davvero affinché il nostro cuore sia il cuore di un cristiano convertito e non di un cristiano formale. Abbiamo bisogno di un cuore rigenerato. E il primo impulso di un cuore rigenerato è quello di portare anche altri a Cristo Gesù con amore e rispetto nei loro confronti. Dio ci benedica, ci incoraggia abbondantemente. Voglio tanto invitarvi a pregare. Carissimi, non permettiamo di ascoltare sermoni dopo sermoni, sabato dopo sabato e non mettere nulla in pratica di quello che abbiamo ascoltato. Il messaggio che noi ascoltiamo durante il sabato deve avere ripercussioni importanti anche durante la settimana. Il titolo di oggi è omissione di soccorso. Che Dio ci aiuti a vedere quelle persone che sono lontane da Cristo, che hanno bisogno del nostro aiuto, che hanno bisogno del nostro sostegno e andiamo a soccorrerle. Andiamo a soccorrerle. Dio ci ha chiamato per un tempo come questo. Difondiamo in ogni luogo, da ogni parte e a ogni persona, quello che è il profumo della conoscenza di Cristo, che è un profumo di vita a vita. Preghiamo assieme. Padre nostro, ti vogliamo ringraziare e ti lodiamo, Signore, per la grazia che ci hai concesso anche in questo santo sabato, di essere ai tuoi piedi, di essere forse per alcuni di noi rimproverati, ma allo stesso tempo, Padre, incoraggiati. Rincorrati. Signore, abbiamo bisogno, Padre Celeste, di essere smossi, di essere scossi. Signore, noi non vogliamo perire. Noi non vogliamo tacere e perire. E ti preghiamo, Signore, che attraverso il nostro genuino servizio, attraverso il nostro sincero servizio, possiamo portare alla salvezza anche altre persone, a noi care. Ti preghiamo, Signore, opera tu attraverso di noi. Rendici degli strumenti nelle tue mani e benedicici, per benedire anche altri. Ti abbiamo pregato nel nome di Cristo Gesù e ti ringraziamo. Amen. Amen. Gloria a Dio e a tutti.